Ciao Gianmarina, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fami, io sono il salutatore. Perfetto. Ciao, buongiorno a tutti quanti, un bacio e grazie mille di tutto. Grazie a te e ho regalato per te la marina del salutatore, questa non poteva mancare. Grazie. Ciao, grazie a te, ciao.